e non è vero che in questi giorni i giovani che studiano sono stati a casa i giovani che studiano sono stati nelle piazze, sono stati sui vecchi e non si può svinire un ragionamento o un invito al ragionamento perché poi alla fine questa legge che non è una cattiva legge in assoluto ma che poteva essere ulteriormente migliorata se ci fosse stato un attimo di riflessione e di ponderazione è diventata semplicemente il terreno, lo scontro politico che ha allontanato il tema dell'attenzione dal contenuto della legge e lo ha portato invece a essere in casus belli un motivo di scontro e di incontro tra maggioranza e pseudomaggioranza tra opposizioni e potenziali opposizioni che potrebbero diventare maggioranza al pari che fosse stata una legge che riguardava le morale o l'importazione delle banane questo è il motivo per il quale anche questa università unanimemente nei suoi organi di governo e di rappresentanza ha ritenuto di esprimere una considerazione critica diceva Giustino Fortunato l'Italia sarà quel che il mezzogiorno d'Italia sarà ma questo in questo momento sembra che pochi lo comprendano non possiamo assolverci e non potete assolverci come classe dirigente perché la classe dirigente di questo paese ma in particolare la classe dirigente di questo mezzogiorno d'Italia non è sempre stata una classe dirigente all'altezza della tutela dell'interesse del bene comune collettivo il progetto politico che troppo spesso il mezzogiorno del paese ha sposato la distribuzione acritica delle risorse e al loro consumo incrementale senza progetti di sviluppo e senza prospettive poi di determinare incremento della ricchezza e miglioramento della distribuzione della ricchezza ora è chiaro che l'università può formare una classe dirigente ma una classe dirigente ha un'anima fondamentalmente oltre che una cultura non credo che gli studenti che studiano sono cosa altra rispetto agli studenti che in questi giorni hanno fatto sentire la progetto voce anzi mi pare che questo movimento sta nascendo sotto i milioni auspici e io vi parlo dell'esperienza della mia generazione le assemblee che c'estivano e la piazza la tenevano ancora quelli che studiavano di più perché in un certo senso erano delle condizioni di poter chiedere risposte puntuali alle questioni che si sollevano questo paese ha una preoccupante patologia che io definirei di apatia democratica ecco io credo che rispetto a questa fuga verso l'apatia democratica la riforma dell'università ha aperto tali e tante di quelle questioni che non hanno soltanto a che vedere con la materia trattata ma che spesso utilizzano questa materia come pretesto per parlare della condizione giovanile per parlare del mercato del lavoro per parlare delle risposte che non arrivano con riferimento a un patto generazionale che appare sempre più non rinviabile per affrontare cioè questioni che riguardano la vostra condizione esistenziale e riguardano anche la condizione esistenziale di chi dentro l'università ci lavora grazie a tutti